Questo è l'Armadio degli Argenti dove venivano collocati gli ex voto argentei che i devoti regalavano nella Basilica della Santissima Annunziata all'affresco dell'Annunciazione. È composto di tre tavole maggiori e una minore. Sono 35 riquadri che raccontano le storie della nascita, passione e morte di Gesù Cristo. La scena iniziale, la visione di Ezechiele, quella finale, cosiddetta Lex Amoris, legge dell'amore, spiega perché Gesù Cristo è morto per la salvezza di tutti noi e la legge dell'amore, superiore alla legge del timore ebraica, ha costituito il motivo di salvezza dell'umanità. L'Armadio è stato dipinto dal Beato Angelico di Ritorno a Roma tra il 1450 e il 1452. Negli stessi anni in cui era anche il priore del convento di San Domenico di Fiesole. E' stato commissionato questo complesso di opere da Piero dei Medici, figlio di Cosimo il Vecchio. Beato Angelico, Armadio degli Argenti 1450-1452 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.